Se l'andamento economico è stato un fattore d'attrazione dell'immigrazione in regione, in questi anni di crisi la polarizzazione è diminuita. Nel 2013, secondo i dati di Banca d'Italia, si ritrae una regione che ospita 84.285 immigrati. Chieti e Pescara detengono una quota della presenza straniera superiore al 20%, mentre l'Aquila e Teramo di poco inferiore al 30%. La provincia di Pescara dal 2008 al 2013 ha avuto un aumento della presenza migrante del 54%. La cosa è relativa anche agli anni precedenti, se si pensa che dal 2003 al 2008, sempre nella provincia di Pescara, l'aumento è stato addirittura del 120%. Quindi vuol dire che i migranti servono alla società e all'economia abruzzese, in particolare pescaresi. Immigrati che accettano lavori che gli abruzzesi rifiutano e poi le imprese a condurre la classifica dell'imprenditoria straniera sono Romene, quelle cinesi, quelle senegalesi in particolare nella provincia di Pescara e poi abbiamo Marocchine e qualche ditta di importante dal punto di vista non solo individuale ma più numerosa di albanesi. Più uomini che donne, secondo i dati, è un maggiore numero di fertilità che porta in risalita il tasso di natalità, che in Italia invece scende in maniera preoccupante anche per gli abruzzesi. Il tasso di fertilità delle donne immigrate è largamente superiore a quello delle donne italiane e quindi vedremo crescere non solo gli arrivi, che sono testimoniati dai dati che ho appena richiamato, ma probabilmente cresceranno i migranti perché nasceranno più figli di cittadini stranieri.